Chi fa polemica su questa situazione, su questo fatto, significa che voglia distogliere o mistificare la realtà. Lanciano fino ad oggi si è dovuto sempre accontentare di un consigliere di amministrazione all'interno del CDA. Oggi Lanciano invece ha un assessore regionale che sicuramente ha una valenza politica molto più forte. E poi un assessore regionale ha la responsabilità politica di tutte le società partecipate a livello regionale e quindi non di meno della società tua. Questo è il punto numero uno. Punto numero due, voglio dire, a me non interessano tanto le poltrone, a me interessano i progetti, i progetti di sviluppo, a me interessa lavorare, fare in modo che San Gritana, che oggi ha una propria certificazione di sicurezza, che può viaggiare sull'infrastruttura nazionale, quindi su quelle dei ferrovie dello Stato, RFI, come poter sviluppare questo ramo per Lanciano e per il nostro territorio. Queste sono le sfide che io voglio affrontare e mi metto a disposizione per lavorare, non il poltronificio perché a me le poltrone non interessano.